Ciao a tutti gli amici di AndroidBlog.it, proviamo oggi la videocamera da 8 megapixel del Yashi MySmart QX 4.7, uno smartphone dual sim che vedremo adesso nella recensione insieme. La videocamera vi ho detto che è da 8 megapixel, vi è la possibilità anche di mettere a fuoco durante la registrazione, come potete vedere. Proviamo un pan veloce. Un controluce, vediamo che si adatta abbastanza bene ai cambiamenti, e uno zoom che è possibile effettuare anche durante la registrazione fino a 4x. Ovviamente la qualità non è altissima, però è comunque accettabile.